Alessandra Ambrosio sexy a Parigi, sotto la vestaglia rossa. Niente. Un modo certo per far girare la testa a tutti i propri fan? Scattarsi una foto sexy come Alessandra Ambrosio, che si affaccia dalla terrazza parigina avvolta soltanto in una caldissima vestaglia rossa. Una stalla, nuda, fa capolino, sotto il vestito niente?. Alessandra Ambrosio sensualissima a Parigi, ecco la foto. Bellezza e sensualità sono le due caratteristiche principali di Alessandra Ambrosio, splendida modella brasiliana che, agli scatti sexy, aggiunge sempre quel tocco carioca in più. Quello che dà brio alla foto, tingendola di quella rossa passione che conquista, subito, tutto il web. In questo caso, la mamma di Anya e Noa Parisi sia ispirata a una delle serie fantasy più in del momento, Il Trono di Spade, interpretando nella maniera più ote possibile uno degli intriganti personaggi della saga di Joel Martin. I fan più accaniti avranno già capito a chi ci stiamo riferendo, la Ambrosio, avvolta in questo red look che lascia presagire una certa nudità sotto la vestaglia, si affaccia alla terrazza parigina come una novella dama rossa. Nelle varie edizioni di Game of Thrones, questo personaggio è stato interpretato dalla splendida attrice olandese Carice Van Houten, che incomuna la modella brasiliana a questa spiccata allure seducente che manda subito fuori giri chiunque posi lo sguardo sulle due splendide e talentuose star. La 36enne carioca è appoggiata al balconcino, con lo sguardo delicatamente rivolto da un lato mentre fissa lorizzonte di Parigi. Più indietro, statuaria, si staglia una elegantissima Tour Eiffel, è questo il dettaglio che ci fa capire che, nonostante la Paris Fashion Week sia agli sgoccioli, Alessandra si trova ancora in città, pronta a sfoggiare, ancora una volta, un look sensuale e scintillante dietro laltro. In questi ultimi giorni non possiamo dire che si sia risparmiata, dopo la London e la Milano Fashion Week, a Parigi ha stupito i suoi fan con diversi outfit griffati Balmain, una delle prestigiose Maison di moda di cui è testimonia. Prima di tornare ancora una volta nella capitale della moda europea, la Ambrosio ha fatto anche una capatina in Svizzera, dove, dopo aver inviato ai follower una cartolina digitale in un meraviglioso casual look, ha presenziato allo Zurich Film Festival in un brillante mini dress Total Black. . Alessandra Ambrosio super impegnata, cosa la attende? È ragionevole pensare che, dopo gli impegni delle varie settimane della moda di autunno, Alessandra Ambrosio si riposi un momento ma potrebbe piacevolmente stupirci per prepararsi a un evento molto importante che avverrà a fine anno. Di cosa stiamo parlano? Dell'attesissimo winter show di Victoria's Secret, la raffinatissima Maison di lingerie per cui la splendida 36enne milita come splendida testimonia. . . La concorrenza è tanta e alcune colleghe, come Bianca Balti e Zabel Goulart, stanno per appendere le ali al chiodo o forse no? Ma lei stupisce con uno shooting dietro l'altro, e non ha alcuna voglia di ritirarsi. . Lo dimostrano le ultime super sexy campagne della casa di moda, che ha coinvolto tutte le sue modelle più belle per uno shooting in Colorado e in Cina. . . E ora, quali meravigliosi outfit sfoggerà la bellissima carioca sui social? Non resta che attendere, dalla sua allure seducente possiamo davvero aspettarci di tutto. . 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 Grazie a tutti.